Aumentano le pressioni internazionali per un accordo di tregua tra Israele e Hamas. Si attende una risposta di Hamas all'offerta israeliana di cessate il fuoco di 40 giorni e la scarcerazione di centinaia di detenuti palestinesi in cambio di rilascio di decine di ostaggi israeliani a Gaza. Nonostante gli sforzi diplomatici, durante un incontro con i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi, il premier israeliano ha dichiarato che l'idea di porre fine alla guerra prima di raggiungere tutti i obiettivi è inaccettabile. Entreremo a Rafa, con o senza un accordo, ha dichiarato Benjamin Netanyahu. E' un'offerta molto generosa di 40 giorni di fuoco, la rilascio di potenzialmente miliardi di prison palestinesi in return per la rilascio di questi ostaggi, che ora hanno stato in captivity per più di 200 giorni. Da Riyadh, lunedì 29 aprile, Arabia Saudita, Egitto e Qatar hanno discusso insieme agli Stati Uniti la proposta di tregua. Il segretario di Stato USA Anthony Blinken sarà a Tel Aviv mercoledì dopo una tappa in Giordania. Nel 42esimo anniversario dell'uccesione per vile mano mafiosa di Piola Torre e Rosario di Salvo, le istituzioni e la società civile si uniscono nell'esprimere sentimenti di grande riconoscenza alla loro memoria. La fermezza e la benegazione in contrastare la criminalità organizzata ne fanno figure emblematiche dei valori di giustizia e legalità, che sono a fondamento di una convivenza civile e basata sullo Stato di diritto. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al Presidente del Centro di Studi e Iniziative Culturali Piola Torre, Nordetano Introini e al Presidente Merito Vito Lomonaco. La lotta alle mafie necessita soprattutto dell'acuta consapevolezza della loro pervasività in particolare da parte delle giovani generazioni, afferma Mattarella, al fine di consolidare quei principi alla base di una società costruita sul rispetto della dignità di tutti i cittadini e libera da ogni forma di intimidazione. Il leader di Sud Chiama Nord, Catrano De Luca, è stato ricoverato al Policlino di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. De Luca era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera ionica messinese per presentare il progetto politico per le europee. I medici hanno prescritto al politico alcuni giorni di riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati. Inizieranno lunedì prossimo e dureranno tre giorni i lavori ad opera del Consorzio di Bonifica di Catania per canalizzare provvisoriamente le acque del fiume Simeto a valle della traversa di Ponte Barca, dove si registrano perdite dalle paratoie. L'ho stabilito la cabina di regia per l'emergenza idrica guidata dal Presidente della Regione Siciliana, in attesa delle riparazioni definitive già finanziate dalla Protezione Civile Regionali e per le quali occorrerà un intervento che durerà circa due mesi. La deviazione temporanea non richiede opera ad alto impatto ambientale e considera di poter immettere su alcune zone nel territorio della Piazza di Catania, attraverso i canali del Consorzio di Bonifica, circa 600 litri di acqua al secondo, una fornitura che sarà disponibile anche nei mesi estivi. Questa operazione consentirà agli agricoltori della zona di soprire appazzalmente i problemi di irrigazione di cui soffre il territorio, dove gli invasi sono quasi vuoti e dove in condizioni stabili l'approvvigionamento di circa 3.000 litri di acqua al secondo. Per cercare di parare la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l'assessorato regionale della salute ha organizzato un convegno finalizzato alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione a tutela dei lavoratori. L'evento che si svolgerà martedì 30 aprile a partire dalle 9 grandieri culturali della Zisa di Palermo si intitola La Prevenzione e la Soluzione e punta alla promozione della cultura, della salute e della sicurezza sul lavoro, con il diretto coinvolgimento delle attività produttive della cittadinanza e soprattutto della scuola. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado infatti sono luoghi in cui il diritto alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi fin dai primi momenti di socializzazione per diventare il patrimonio dell'individuo e della collettività. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Termini Merese su richiesta della procura nei confronti di due fratelli di 39 e 35 anni di origine balcanica, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali aggravate, violazioni di domicilio e minaccia. Le indagini condotte dai militari della stazione di Campo Felice di Rocella sono scattate dopo una rite avvenuta in un bar del centro tra i due indagati e il loro nazionale quarantenne. Dopo l'animata discussione i due fratelli avrebbero organizzato un vero e proprio raid punitivo nei confronti dell'uomo. Dopo aver intracciato la vittima nella propria abitazione hanno sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento e una volta in casa si sarebbero scagliati contro l'uomo sotto gli occhi inermi della moglie del figlio minore. Il 39 e il 35enne dopo le formalità di rito sono stati condotti nel carcere di Termini Merese in attesa di interrogatori di garanzia. Un 33enne è stato arrestato per maltruttamento in famiglia dai carabinieri della compagnia di aciriale dopo che aveva picchiato la figlia che da poco era tornata a vivere con lui, colpendola anche con dei calci, strappandola delle giocche di capelli e stringendole le mani al collo. La convivente dell'uomo che ha assistito alla scena ha chiamato il 112. Mentre il 33enne sgridava la donna anche la figlia ha telefonato ai carabinieri che hanno mandato una pattuglia sul posto. I militari dell'arma hanno prestato soccorso alle vittime facendo intervenire un'ambulanza. Le hanno poi messi in sicurezza. Mentre gli investigatori erano ancora sul posto, il 33enne è rientrato a casa. Era scalzo in bandaloni in canottiera con addosso un forte odore di alcol, biascicando parole sconnesse. L'autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto e risposto i domiciliari in un'altra abitazione. In una intervista concessa a Euronews, la candidata tedesca Strack Zimmermann ha attaccato Ursula von der Leyen, presidente in carica della Commissione europea e in corsa per un secondo mandato, per il suo operato in particolare nei settori della difesa, dell'economia e dei diritti fondamentali. Secondo la deputata liberale, von der Leyen ha temporeggiato infatti troppo prima di porre la difesa in cima all'agenda europea. Per quanto riguarda poi la protezione dei diritti fondamentali, la candidata liberale ritiene incredibile che la Commissione europea possa aver sbloccato 10,2 miliardi di euro in fondi per l'Ungheria proprio un giorno prima di un vertice cruciale che il primo ministro di Budapest, Viktor Orban, aveva minacciato di far saltare. Sul fronte economico Strack Zimmermann ha avvertito che le politiche ecologiste e l'eccessiva burocrazia frenerebbero a suo avviso la crescita, spaventerebbero gli imprenditori e farebbero perdere tempo prezioso che si potrebbe utilizzare invece per farsi venire idee buone per convincere le aziende a rimanere in Europa. A Dublino sono comparse tende lungo le strade, in particolare accanto all'ufficio che si occupa delle domande di asilo. C'è un dato che preoccupa, circa l'80% dei migranti arriva in Irlanda attraverso il confine aperto con l'Irlanda del Nord. I flussi sono aumentati nei mesi in cui il Regno Unito ha discusso l'invio dei richiedenti asilo in Ruanda, accordo infine approvato la scorsa settimana. Si ritiene che il piano Ruanda abbia spinto molti migranti a lasciare il Regno Unito, gli irlandesi lamentano la mancanza di case e 13.000 richieste di asilo nel 2023 hanno aggravato le tensioni. La scorsa settimana sono scoppiati scontri in una contea a sud di Dublino dopo la proposta di alloggiarvi dei migranti. Le autorità irlandesi sono a Londra lunedì per trovare un accordo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!